Centinaia di persone si sono riunite in una veglia a Sydney per chiedere clemenza per i due cittadini australiani arrestati nel 2005 a Bali e condannati alla pena di morte per traffico di droga internazionale. Gli avvocati dei due hanno chiesto al governo indonesiano la revisione del processo, senza successo.